Ciao Carlo, ti faccio questo video per spiegarti quello che tu mi chiedevi. Questo preventivo che hanno fatto qua è una truffa per il fatto che nella parte superiore mettono sei impianti dentali, sotto invece mettono quattro impianti dentali. Significa che nella radiografia il paziente sta mantenendo i denti nella parte inferiore. Il solito trucchetto, questo che fanno molte cliniche per esempio in Croazia o che in Albania mi nuova questa cosa, una radiografia che mostra che l'osso un tempo stava qua sotto nell'arcata inferiore, i denti stavano più alti, arrivavano qua, si sono consumati per evitare di fare un preventivo elevato al paziente e quindi invece di togliere questi denti che hanno la piorrea, se questi sono denti malati, hanno la parodontite, l'osso sta molto basso, noi calcoliamo di togliere, loro invece calcolano di mantenere, è ovvio che se ti metto meno cose in bocca il preventivo è più basso, ma se loro gli facessero il preventivo come li abbiamo fatto noi in realtà verrebbe di più. Sotto prevedono di mettere praticamente questi denti solo nelle zone posteriori, sopra mettono sei impianti dentali ma non caricano come noi nel preventivo definitivo i denti già avvitati, noi mettiamo dei denti invece, denti a carico immediato che sono dei denti già fissi, ovvero noi intanto ti mettiamo tutti gli impianti e più ti mettiamo subito i denti fissi sia sopra che sotto, invece loro non ti mettono i denti fissi ma ti mettono e ti mettono anche meno impianti e ti mettono in più sopra dei denti in resina provvisori, se tu vai nella voce qua all'oro di listino si vede la protesi provvisoria in resina, 100 euro, loro gli fanno praticamente sopra la protesi mobile totale e questo non lo puoi fare perché quando tu metti praticamente sopra questa dentiera ha le gengive cucite con gli impianti sotto, gli impianti sotto perdono osso perché questa sbatte sulle gengive, in basso invece mettono una dentiera come questa, noi questo no, noi gli mettiamo già sopra questi impianti le protesi avvitate, questo si chiama il carico immediato, se loro gli facessero il carico immediato avrebbe tutt'altro costo il lavoro, il carico immediato si fa perché quando metti gli impianti nell'osso questi vanno uniti tra loro per far consolidare l'osso, è un po' come la funzione del gesso, quando ti rompi un braccio cosa fai, ti metti un gesso per far solidificare l'osso, qua invece questo denota che loro non sanno come funziona la biologia, non ne fanno tanti e gli mettono che cosa una dentiera mobile sopra, non sapendo magari anche in buona fede che questa protesi che batte, noi lo facevamo dieci anni fa questo lavoro qua di mettere la protesi mobile, fa poi riassorbire l'osso, stessa cosa sotto, se tu metti la dentiera che batte sopra, l'osso se ne va, l'osso scende, 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 scende finché gli impianti alla fine hanno spazio attorno, quando poi metteranno i denti definitivi qui sotto gli si incastra cibo, per questo noi ormai, non solo noi a livello internazionale, si fa solo il carico immediato in questi casi, oltre che denti con piorrea questi vanno tolti, se possono essere mantenuti vengono mantenuti, ma in quel caso noi andremo a mettere delle corone sopra che non sono in metallo ceramica, fai attenzione perché qua nel preventivo che li hanno fatto, non nel nostro, si parla di denti in metallo ceramica, ok metallo ceramica è un materiale antico, vecchio, sono denti fatti a mano, capsule metallo ceramica, sono le più economiche che ci sono, ma sono anche quelle che all'interno hanno il metallo, vedi? queste sono in zirconio, ne ormai facciamo solo corone in zirconio, perché quelle in zirconio vengono fatte con il computer, vedi? queste qua invece sono in metallo ceramica, dentro c'hanno il metallo, sono denti più brutti da vedere, sembrano finti quando li metti in bocca, e sono più opachi rispetto alle corone in zirconio, la differenza è che poi lo zirconio possono essere fate con il computer, significa che con il computer noi andiamo a progettare la struttura che reggerà poi i singoli denti, le singole corone le andiamo a realizzare poi con il computer, questo significa che al paziente mettiamo in bocca delle copie di denti reali, delle simulazioni di denti reali avrà in bocca, perché sono delle forme di denti reali che vengono scannerizzati, portati nel progetto digitale e poi vengono riprodotte roboticamente, significa che un robot va poi a realizzare le singole corone, da dei blocchetti di ceramica vengono fuori i singoli denti e questo significa che negli anni se un dente si rompe noi facciamo un click e andiamo roboticamente a ristampare il singolo dente o il blocco di denti e questi denti vengono inviati o al centro assistenza in Italia oppure mandiamo il file e andiamo a riprodurre poi in Italia stessa al centro assistenza i lavori che vengono inseriti poi sopra gli impianti dentari o sopra la struttura che regge le corone. Quindi questo è un lavoro sottostimato perché mancano impianti dentali, avrà meno denti in bocca sugli impianti dentali, avrà la protesi mobile che batte sugli impianti dentali provvisori a fare assorbire osso e in più gli stanno mettendo vendendo sopra meno denti con materiali antichi.